Perché avete scelto la Puglia? Eh, perché la Puglia? Già mi siamo andati un paio d'anni fa, mare bellissimo, mojita pure, quindi... Perché abbiamo scelto la Puglia? L'acqua cristallina sicuramente, è il mare che ha contribuito. È una delle regioni più belle d'Italia, quindi... Vieni in vacanza in Puglia, ormai è questo il trend del momento. Tantissime le auto che in queste ore stanno arrivando qui al casello Bari Nord. Tra le mete più ambite ovviamente c'è il Salento. Come mai? Avete scelto la Puglia per le vacanze? Sono così, che è la prima volta che andiamo, non ci siamo andati. No, e poi il mare. Volete quindi fare parecchio mare, immagino. Dove state andando in direzione? Gallipoli. Da là vi sposterete? No, 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 siamo in un villaggio. Dove andate? A Salve. Quindi ci andiamo sette giorni in vacanza. Da dove venite? Da Perugia. Resterete solo in zona Salento o vi sposterete per il resto della... Stavamo pure un po' per vedere qualche cosa. Prontissimi. Prontissimi. Vi vedo già belli carichi. Un po' morti dal viaggio però... Da dove venite e dove andate? Roma. Da Roma. Quando siete partiti? L5. Dove andate? Gallipoli. Gallipoli. 15 giorni. Dove andate? A Frigole. Ed è traffico da bollino rosso sulle strade della Puglia. Questa è la situazione sulla tangenziale di Bari in questo primo fine settimana di agosto. Grazie. Grazie. Grazie.